Il presidente della Catalogna è giunto a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione Europea Barroso, ma Barroso non l'ha ricevuto. A fare gli onori di casa, i suoi vice, Olli Renne Marosefcovic, Arthur Mas, leader del separatismo catalano, ha incontrato anche il commissario per l'impiego, ufficialmente per una vista di routine. Sono venuto qui per parlare di disoccupazione, di povertà, di infanzia, di tagli e di dove può portare all'austerità. Sono qui per questo, ma se uno dei commissari me lo chiedesse, e non è successo oggi, parlerai loro del processo politico in Catalogna. I commissari Almunia e Barnier hanno affermato recentemente che una Catalogna indipendente sarebbe fuori dall'Unione Europea. Per il presidente della regione, l'Europa non lascerebbe fuori 7 milioni di europei. Non posso affermarlo con sicurezza, ma nemmeno dire il contrario perché non ci sono precedenti, sarebbe una prima assoluta. La Catalogna minaccia di organizzare un referendum per separarsi da Madrid, denunciando un trattamento fiscale iniquo da parte del governo spagnolo. Oltre la metà dei catalani sono a favore dell'indipendenza.